Grazie alla doppietta del bomber Edoardo Fraraccio, il Fornelli espugna Mirabello, sede delle gare interne del Cerce e allunga in classifica proprio sugli avversari di giornata. Dirige Niccolò Granitto della sezione di Termoli. Si presenta subito alla grande la formazione ospite, tiro di Fabrizio deviato in rete da Fraraccio. Il direttore di gara annulla per offside del numero 9. Poco più tardi ancora Fraraccio crea problemi alla retroguardia cercese, sta affilata dalla distanza con palla che si stampa sulla traversa. Il Cerce si sveglia dal torpore iniziale, punizione di miele respinta dalla difesa, palla ad Antonio Zappone che conclude alto. Lo stesso centrocampista di casa al 14esimo si presenta solo davanti a Del Riccio ma viene ipnotizzato dal portiere del Fornelli. Al 26esimo è pericoloso il Fornelli. Scambio Fraraccio-Domenico-Ionata. La conclusione del numero 9 viene controllata da Di Florio. Grande chance per gli ospiti al 39esimo. Fraraccio lanciato in profondità si presenta solo davanti al portiere avversario ma sbaglia il controllo e l'azione sfuma. Gol mangiato, gol subito. La legge del calcio si materializza 60 secondi dopo con il vantaggio del Cerce. Damiano premia nello spazio Antonio Zappone che mette al centro da sinistra. La palla attraversa tutta l'area e Capitan Miele è bravo a deviare la sfera in rete. Nel recupero del primo tempo Basile viene affrontato in area di rigore da Vessella. Granitto non ravveri irregolarità e lascia correre. Con le immagini di Loreto c'era solo andiamo alla ripresa. Al quinto si vedono i padroni di casa con un tiro cross di Sabatino respinto di piede da Derriccio. All'undicesimo è Antonio Zappone a mettere al centro una palla invitante. Dalla sinistra nessun compagno si fa trovare pronto alla deviazione vincente. Il Fornelli spinge e trova il pari al minuto 23. È Fraraccio a ricevere palle in area di rigore e a trafiggere Di Florio con una conclusione precisa. I ritmi del match calano e i bianco-verdi ospiti ne approfittano andando a realizzare il gol del sorpasso. La firma al trentanovesimo è sempre quella dell'attaccante Fraraccio che sfrutta un lancio illuminante di Fabrizio, resiste ad un avversario e trafigge Di Florio. Il cerce con gli uomini contati accusa la stanchezza e non riesce a reagire. Il Fornelli così porta a casa tre punti pesantissimi e si proietta nel migliore dei modi al confronto interno con la Maronea. Per il cerce nel prossimo turno ci sarà la trasferta a Carpinone.